È stato molto bello, è la prima volta che registro l'audiolibro e è stato bello perché ho davvero riletto il libro che ho scritto e l'ho riletto da lettrice e a volte mi sono commossa perché appunto è un libro anche molto intimo e quindi ci sono delle cose che proprio riguardano la mia vita e quindi è stato emozionante, è stato molto emozionante. Che lo vorrei fare sempre, stare rinchiusa con il telefono spento, con le cuffie in testa, entrare in un altro mondo per qualche ora è davvero bello, cioè mi svegliavo la mattina felice di avere queste tre ore di isolamento e di rinascita. L'Annalena del titolo sono due Annalena perché una sono io che racconto, che parlo, che scrivo, che rifletto e una è Anna Lena Tonelli, una mia lontana cugina, oltre a avere il mio stesso nome, una volontaria laica, missionaria laica dovrei dire ma non le piacerebbe, che ha speso la sua vita al servizio degli ultimi della terra, dal 1969 si è trasferita in Africa, prima in Kenya e poi in Somalia ed è stata uccisa lì nel ottobre del 2003, 20 anni fa e ho cercato di raccontare la sua vita attraverso la mia, attraverso il mio sguardo perché volevo raccontare sì la sua vita e le sue azioni ma soprattutto il suo pensiero su quella che deve essere una vita piena e quindi piena di senso. La vita di Anna Lena Tonelli mi ha immediatamente richiamato altre vite e altri pensieri, sempre femminili. Credo che il pensiero rivoluzionario del Novecento sia un pensiero femminile e per questo ho chiamato a raccolta le altre, quindi Simone Weil, Ethel, Sum, Virginia Woolf, perché il pensiero di Anna Lena è un pensiero universale che chiama in causa l'amore e chiama in causa lo sbilanciamento femminile, cioè quell'istinto, quel desiderio, quel pensiero che ti fa immediatamente andare fuori di te verso l'altro, verso chi ne ha bisogno e la vita ma anche il pensiero di Anna Lena sono state espressione totale di questo sbilanciamento. Lo consiglierei alle giovani donne in particolare, alle persone che stanno cercando un senso o che a volte credono di averlo perso, il confronto con Anna Lena Tonelli naturalmente è un confronto difficile e quindi per questo mi sono messa in prima linea a mostrare la mia inadeguatezza di fronte a questa grandezza, a questo assoluto. Però è un libro che sarebbe bello che leggessero anche gli uomini perché è un libro fatto di donne ma è un libro che parla agli esseri umani e quindi naturalmente anche agli uomini e sarebbe bello che lo leggessero anche loro, che lo ascoltassero perché non è una dichiarazione di guerra ma è una dichiarazione di differenza e sarebbe bello che questa differenza venisse compresa anche da loro. Io sono una grande ascoltatrice di audiolibri, di solito ascolto soprattutto libri che ho già letto perché mi è utile e perché mi piace ascoltare la differenza tra la voce che c'è nella mia testa quando leggo e la voce del lettore o della lettrice dell'audiolibro che magari invece pongono l'attenzione su cose diverse rispetto alle mie e mi sembra una grande possibilità di arricchimento della lettura e anche lì è stata una grande scoperta. Naturalmente bisogna fare attenzione alla distrazione, cioè la mente quando non si è impegnato nella lettura, quando non hai una cosa davanti agli occhi può andare altrove, però poi sempre ritorna e quindi diciamo che per me è un ascolto rilassato in cui posso permettermi di distrarmi e poi so che tornerò lì e magari quindi torno indietro per per riascoltare e poi è stato per me anche la possibilità di ascoltare delle cose insieme ai miei figli. Con loro spesso abbiamo, soprattutto con mio figlio più piccolo, ascoltato dei libri che è un po' come leggerli insieme, cosa che non mi permettono di fare e quindi ascoltarli è una gran bella cosa.